Ospite di Oggi Studio, Ferruccio Bocciarelli, direttore vendite usato Italia di Veco Giusepp Plus. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Tra l'altro io ne approfitto subito per farle i complimenti perché so che ha assunto questa carica da pochissimo, da novembre o dicembre. Sono un paio di mesi che sono su questa nuova funzione. Diciamo che vengo da una realtà poco diversa, nel senso che ho ricoperto sempre i ruoli responsabili commerciali usati presso il dia di proprietà che abbiamo a Verona, quindi sempre nello stesso ambito. Benissimo. E io voglio subito ricordare anche ai telespettatori che sulla rivista Camion Supermarket, che potete trovare ogni mese in edicola, esattamente sul retro della rivista, potete trovare lo speciale di Veco. Di che cosa si tratta? Sì, questa è una parte che abbiamo fortemente voluto. È la zona riservata ai concessionari e a tutto il marchio Iveco, proprio all'usato derivante del nostro marchio Iveco. È quello dove il cliente finale può trovare tutto l'usato certificato appunto nostro, della casa madre. Benissimo. Quindi mi raccomando, acquistate questa rivista. Invece le chiedo anche su quanti e su che tipologie di punti vendita può contare ovviamente chi è interessato a Iveco Used Plus. Allora, Iveco Used Plus è una realtà internazionale intanto. Secondo me è importante sottolineare questo aspetto. È una realtà internazionale che conta più di 400 punti vendita su tutto il perimetro EMEA, che quindi comprende Africa, Europa e Africa Middle East. In Italia abbiamo un centro nazionale veicoli d'occasione che è nato nel 1992, nel lontano 92, a Piacenza, che ha una sede secondaria a Bari. Un dealer di proprietà a Verone, quindi con questo completiamo l'offerta della logistica dell'usato in Italia, diretta di Iveco. In più, due importanti joint venture, una a Torino e l'altra in Sardegna e la rete conta più di 37 concessionari complessivamente su tutto il perimetro italiano, quindi diciamo una distribuzione estremamente capillare. Importante, secondo me fondamentale, è citare anche come strumento di distribuzione il sito di Iveco Used Plus. Questo sito è quello che permette al cliente che ne necessita di accedere alla borsa dei veicoli di tutte le 400 realtà che abbiamo definito prima. 400 realtà che chiaramente non sono tutte in Italia. Noi nel nostro paese, come gli altri colleghi presso i loro piazzali, siamo perfettamente organizzati per poter importare il veicolo che eventualmente il cliente non trova direttamente in loco, importarlo ed effettuare tutte le pratiche sia di nazionalizzazione sia di messi in strada per poterlo dare chiavi in mani insomma al cliente. Perfetto, tra l'altro so che quest'anno per voi è un anno anche particolare perché c'è un anniversario importante. Allora c'è da dire che il 2015 sarà estremamente importante per l'usato di Iveco. Innanzitutto subiremo un forte processo di cambiamento nel senso che cambieremo denominazione abbandoneremo il vecchio Iveco Used Plus che abbiamo citato adesso anche se non si può ancora citare il nuovo logo e il nuovo nome. Ma tutto verrà breve. Non sarà soltanto un cambiamento formale ma vogliamo che sia soprattutto un cambiamento sostanziale e cito due contenuti fra gli altri. Una legata alla garanzia che cambierà, la garanzia usato plus che abbiamo utilizzato fino ad ora da dieci anni in una forma più evoluta e la certificazione dei veicoli presenti a piazzale. Poi nel 2015 ricorre il decennale del centro usato di Piacenza, è un orgoglio particolare. Come ho detto siamo partiti nel 1992 ma dieci anni fa c'è stato un forte investimento sull'usato da parte di Iveco e ci siamo trasferiti sulla attuale sede di Piacenza. Chiaramente sarà un'occasione di festa ma non vogliamo che questa sia solo un'occasione di festa. Deve segnare veramente il passo per il cambiamento che vogliamo dare, l'abbrivio che vogliamo dare alla strategia di Iveco sull'usato attraverso appunto gli strumenti che abbiamo citato poc'anzi. E invece che tipologie di veicoli immettete nella vostra rete e che garanzie danno questi veicoli? Allora, ad Iveco si sta riconoscendo un valore residuo dei veicoli sempre più alto. Abbiamo tre tipologie principali di veicolo che entrano sui nostri piazzali. La prima che ritengo quella più importante è quella che deriva dal canale buyback, cioè acquisti da parte dell'utente, del primo utente, con contratto di impegno a riacquisto da parte di Iveco. Perché dico la più importante? Perché parliamo di veicoli con un'anzianità media che va dai 2 ai massimo 4 anni e con una certificazione che è data dai contratti che vendiamo assieme ai veicoli. Cioè sono tutti venduti con contratti di manutenzione e riparazione, quindi sono veicoli che seguiamo durante l'arco della loro vita primaria e dei quali quindi possiamo certificare la qualità residua quando arrivano sui nostri piazzali. Altro canale di approvvigionamento è quello dei veicoli ripossessati, quindi tutto il canale che arriva dai veicoli finanziari che viene gestito in parte direttamente tramite Piacenza e in parte tramite le varie concessionarie distribuite sul territorio. L'ultimo canale è quello che invece deriva da classica permuta, il trade-in, quindi la classica permuta sui veicoli nuovi. Come garanzia invece è importante aprire una parentesi, secondo me. Oggi lavoriamo, come è da 10 anni a questa parte almeno, non so neanche il tempo giusto, lavoriamo con Iveco Usato Plus, che è una realtà, ripeto, consolidata, che è una garanzia che garantisce tutte le parti meccaniche principali soggette a rotture. Questa garanzia cambierà nel corso del 2015 a breve, anzi alcuni mercati pilota, cito Francia e Germania per esempio, già sono partiti in questa direzione. La nuova garanzia sarà dedicata all'usato premium, quindi quello che citavo prima, l'usato con un'alta qualità residua e non sarà più una garanzia assicurativa come è usato Plus, ma una garanzia diretta dalla casa madre che quindi certifica il valore del suo veicolo nel tempo. Benissimo. Quali sono invece gli strumenti finanziari e di marketing utilizzati? Ad esempio esiste un contratto assistenza anche per l'usato oppure no? Allora, distinguerei i due punti. I contratti di finanziamento. Come finanziare abbiamo una Captive Iveco che peraltro ha beneficiato ultimamente del Joint Venture con BNP Paribas, quindi è uscita rafforzata da questo processo, che serve tanto i veicoli nuovi quanto i veicoli usati. Chiaramente siamo strutturati per qualsiasi tipo di offerta, parlando di usato di leasing o di finanziamento che il cliente può avere necessità di ricevere, come talvolta esce direttamente da finanziare con offerte specifiche dedicate all'usato. Questo diciamo per la parte di finanziamenti. Per la parte di contratti di manutenzione, io direi su quello che il mercato Italia è ancora rimasto un po' acerbo sotto questo punto di vista, nel senso che i contratti di manutenzione è quasi normale o comune venderli sul nuovo, siamo un po' più indietro riguardo all'usato. Questo però non toglie che noi siamo già strutturati, soprattutto sull'usato premium, ritorno al concetto che ho espresso poco fa, soprattutto sull'usato certificato, siamo pronti per poter estendere contratti di garanzia oppure offrire contratti di manutenzione e riparazione, proprio che permettono anche al cliente che ha necessità di questo tipo di esigenza, di poterlo offrire sul mercato. Perfetto, allora io ringrazio Ferruccio Bocciarelli per essere stato con noi, ovviamente vi auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.